Oggi celebriamo il quarantennale dell'istituzione del CENGE e il ventennale di questa sede attuale. Il CENGE infatti nasce 40 anni fa come laboratorio di biologia molecolare, essenzialmente dedicato alla ricerca e poi si è aggiunto tutta quanta l'attività diagnostica e di ricerca traslazionale per cui praticamente non è più soltanto ricerca di base ma una ricerca tesa poi ad eventuali applicazioni cliniche. Il CENGE in questi ultimi 6-7 anni è cresciuto enormemente, siamo ormai oltre i 200 mila esami diagnostici l'anno e sono esami diagnostici di altissima qualità e così anche l'attività scientifica, abbiamo ormai standardizzato un'attività pubblicistica che va oltre i 200 lavori all'anno, un impact factor che va oltre i 1200 lavori all'anno e quindi il CENGE si pone sicuramente come punto di riferimento non soltanto nazionale per quanto riguarda la ricerca e la diagnostica ma anche internazionale. A questo proposito mi piace citare che il CENGE è uno dei pochissimi centri italiani, uno dei pochi centri europei ad avere oltre gli accreditamenti nazionali dovuti l'accreditamento della Joint Commission americana. Il CENGE oggi ha raggiunto una dimensione di oltre 300 persone che lavorano tutti i giorni presso la nostra struttura, ma anche grandi potenzialità di sviluppo perché possiamo realizzare nuovi laboratori sia sul terzo piano che abbiamo già autorizzato alla costruzione sia nella nuova palazzina di oltre 1200 metri quadrati. L'obiettivo del CENGE è quello di raggiungere una dimensione di 500-600 persone che gli consenta di confrontarsi a livello internazionale con i principali centri di ricerca. Il fiore all'occhiello del CENGE è l'attività di screening neonatale che oggi il CENGE svolge sia per la regione Campania che per la regione Calabria. Tutti i bambini sono sottoposti a indagini su 50 malattie metaboliche nelle 48 ore dalla nascita. Nel 2023 è stato introdotto anche lo screening dell'asma, una malattia fortemente invalidante che porta spesso anche alla morte dei bambini. Attraverso questa indagine genetica che viene fatta nel 48 ore dalla nascita è possibile intervenire con una cura, un attrattamento genetico che ne consente la sopravvivenza e per noi ovviamente questa è un'attività di grande vanto. Sempre nell'ambito dello screening stiamo pianificando nuove attività e nei prossimi mesi sicuramente ci saranno delle grandi novità. Dopo alcuni anni di vita negli Stati Uniti e in altri paesi d'Europa, in Inghilterra, nella stessa Francia ho visto un po' alcuni moderni istituti di ricerca che mi sono molto piaciuti e che ho pensato andassero bene anche in Italia dove un po' mancavano specialmente nel sud. E così ho cercato, stando nel Consiglio d'amministrazione dell'Università da Napoli, sulla base di una legge della Cassa del Mezzogiorno, era possibile creare l'idea di centri di ricerca che potessero lievitare e promuovere la ricerca scientifica in Italia nel nostro settore delle scienze della vita. Iniziai il mio percorso di reazione a questa fondazione del CERINGE che per la verità sia pure dopo molta fatica andò bene perché riuscimmo a creare così un centro che potesse veramente oggi ospita più di 300 persone e che ci vogliono molti anni per essere concretato ma che la fatica ne valse la pena. Il CERINGE ha raccolto un numero importante di ricercatori di straordinario livello, riesce a fare comunque tante cose perché riesce a dare un sostegno diagnostico fondamentale, sappiamo tutti i numeri del CERINGE, addirittura un sostegno diagnostico che riesce a reggere anche finanziariamente questa struttura che sta crescendo, è una struttura che è stata rivista anche negli anni e che oggi vive di questo rapporto sinergico assolutamente positivo tra l'azienda ospedaliera, quindi la Regione e la Federico II che sono i due soci. di questo consorzio culturale, scientifico e di servizi così importante per la Campania ed è un esempio per tutta l'Italia.